Le abitazioni di boss e killer, gli appartamenti della Camorra assegnati alle famiglie senza tetto. Ondata di consensi per la scelta del comune di Nocera Inferiore di destinare beni confiscati alla criminalità organizzata a chi vive il dramma dell'emergenza abitativa. Quando viene confiscato qualcosa alla mafia è assolutamente giusto darlo a chi ne ha realmente bisogno. C'è tanta gente per strada che ha bisogno, quindi vuolo dopo una cosa. In particolare a Nocera due appartamenti di via Fucilari saranno disponibili per nuclei familiari in condizioni di disagio. Attico e superattico, 160 metri quadrati coperti e 200 metri di terrazzi che costituivano la residenza adorata di Salvatore Di Maio, soprannominato Tore Oguaglione, killer cutoliano condannato più volte all'ergastolo, oggi in semilibertà. Questo bene significava molto, significava il controllo di un'intera città. Credo che la rete di collaborazione con il terzo settore, le scuole, le famiglie sia la maggiore risposta. Si contrasta la camorra costruendo ogni opportunità per le famiglie e per le fasce più deboli. Una tappa importante nella lotta alle mafie? Sì, vedere questi locali che sono appartenuti ad una famiglia mafiosa e che adesso serviranno per le emergenze abitative del comune di Nocera è veramente molto gratificante. Lo Stato alla fine ha vinto. Un altro immobile in via Stuti appartenuto a un padrino della nuova famiglia Mario Pepe, rivale poi pentito di Di Maio, sarà destinato all'accoglienza di donne vittime di violenza di genere. Dalla confisca dei beni al riutilizzo sociale passano troppi anni. Noi siamo impegnati a fare in modo che tutti facciano la loro parte affinché questo lasso di tempo così lungo venga accorciato.